Ciao ragazze, benvenute al solito appuntamento mensile dei preferiti del mese questa volta è in collaborazione con Federica, Derry Bruno qui su Youtube vi lascio giù nell'info box il link al suo canale è una ragazza bellissima, oltre che simpaticissima spero che andate a dare un'occhiata al suo canale perché merita davvero allora inizio subito col farvi vedere i prodotti che ho utilizzato di più in questo mese e sono prodotti che avevo accantonato per un po' e ho ripreso ad utilizzare perché comunque mi dispiace, ho tanti prodotti e voglio smaltirli allora inizio con la base e sto utilizzando questa base luminosa di Debbie ed è la Radiance Solution la mia è nella tonalità 01 è una base con 30 ml di prodotto e io la utilizzo tipo primer l'applico dopo la crema viso e dà un effetto diciamo luminoso sul viso mi piace molto dalla confezione non si vede però vi assicuro che sta lì lì per finire quindi ne sto approfittando per terminarla e niente questa qui la comprai tipo per 3 euro in offerta da acqua e sapone tempo fa non so se si trova ancora però non l'ho vista questa qua è la base luminosa incarnato perfetto e la sto utilizzando come primer per per terminarla poi sto cercando di smaltire questo prodotto macabro che è la BB cream di MUA allora ha un lato positivo che è molto molto coprente pur essendo una BB cream però non mi piace perché risulta un pastone sul viso ed è molto molto pesante come prodotto avete proprio il viso tipo grassoso sono molto appiccicaticcio non mi piace e sto cercando di utilizzarla mescolando un po' di questo prodotto con i vari fondotinta che utilizzo in particolare la sto abbinando a questo fondotinta qui della Delia Cosmetics che ho acquistato al Cosmo ed è il Velvet Skin effetto matte questo qui Long Lasting Matte Foundation è un ottimo fondotinta l'unica cosa ho sbagliato il colore ed è un pochettino chiaro però ci tampono su una cipria colorata e risolvo insomma il problema e sto abbinando insomma per i trucchi di tutti i giorni questi due prodotti questa qui perché voglio terminarla perché davvero non si subisce la mia è nella tonalità media e 30 ml di prodotto però vi ripeto non è niente di che e poi vi assicuro vedete mi è arrivata già così cioè di prodotto c'è giusto la metà tutta questa parte qui è vuota vedete si schiaccia io la pego proprio solo questa parte qua c'è il il prodotto quindi è anche un po' una sola come come insomma come prodotto e ve la sconsiglio proprio per l'effetto che dà sul viso molto molto pesante non mi piace questo qui invece ve lo consiglio tantissimo per chi va al Cosmoprof quest'anno fermatevi allo stand di Delia Cosmetics che è un è uno stand polacco io ogni anno vado lì e compro il loro fondotinta quest'anno ho voluto provare questo qui effetto matte mi piace molto l'unica cosa ho sbagliato la tonalità lì poi ci sono quelle luci insomma l'ho anche testato perché c'hanno i tester però ho sbagliato la tonalità però lo uso lo stesso non importa lo tampono con una cipra o lo miscelo con un altro fondotinta del mio colore o una colorazione più più scura poi ho un altro prodotto che sto utilizzando sembra che è andato in guerra però insomma sto cercando di utilizzarla anche perché si sta seccando come prodotto e mi dispiace ed è un prodotto della Physian Formula questi prodotti qui me li ha mandati mia cugina dal dal Canada ed è la Glow and Mood Boosting Powder ed è la beige tonalità beige io adoro i prodotti della Physian Formula infatti ogni anno quando vado al Cosmo passo dal loro stand per chi mi piace praticamente ho tolto tutto il qua praticamente c'era un cuoricino rosa dato che io comunque la utilizzo come come cipria non mi va che mi faccio le chiazzette rosa tipo blush per il viso quindi l'ho grattata e ho tolto questo cuoricino rosa e poi l'ho grattata un pochettino infatti pare che è andata in guerra oddio pare che è andata in guerra non so se si può notare perché si sta seccando e comunque è un prodotto che mi piace l'ho utilizzata anche oggi la voglio terminare perché non mi va di buttarla dato che comunque ci ho speso un bel po' di soldi per la dogana perché me l'aveva fermata la dogana questi prodotti qui poi sto utilizzando tantissimo un prodotto che avevo accantonato da da un bel po' ed è la palettina si è cancellata tutta la scritta comunque questa qui è la palettina della Wet n Wild si può dire che per questo prodotto mi hanno fregato un fottio di soldi perché io in Grecia l'ho pagata a un 9 euro e poi ho scoperto che è un brand molto molto economico tipo Essence più o meno e non conoscendo bene questo questo brand mi sono fatta prendere dalla foca che avevo trovato insomma questo prodotto e ci ho speso 9 euro però vi assicuro se ve la vogliono vendere per 9 euro di non comprarla è molto valida però come palettina l'unico prodotto che non utilizzerete né muo né mai è l'illuminante che questo qui praticamente è orribile c'è un illuminante bianco tipo cadavere come potete vedere e crea proprio un effetto finto sul viso non mi piace proprio mentre ho utilizzato tantissimo questo correttore qui è molto molto coprente va dosato bene perché è molto pastoso copre bene quindi se ne mettete giusto un po' di più va a finire tutto nelle pieghette sto utilizzando questo qui per illuminare l'occhiaia quindi per coprire lo scuro dell'occhiaia insomma sto alternando un pochettino il correttore di Y con quello lì aranciato e questo qui perché comunque voglio sfruttarlo infatti se ci fate caso il rosa e il verdino che è questo qui che serve per i rossori sono intatti infatti sto utilizzando anche questo qui quando ho qualche brufoletto o qualche rossore cerco di alleviarlo con questo prodotto mi ci sto trovando bene e ve la straconsiglio questa palettina perché diciamo i correttori fanno il loro dovere l'illuminante come potete vedere dallo svozzo è orribile o almeno a me non piace questa tipologia di illuminanti e qui non mi piace proprio poi un prodotto che sto utilizzando tanto e l'ho utilizzata anche come primer per questo rossetto liquido della Beauty UK è la matita di Wicon matita labbra contorno perfetto e questo è un prodotto ad esempio che ho visto da Eleonora che ha recensito benissimo e devo darle razione è un prodotto che ho acquistato sotto suo consiglio l'ho pagato io l'ho pagata 4 euro e 90 io lo utilizzo sia per contornare come contorno labbra per non far sbordare il rossetto ma anche come primer per le labbra per far durare di più i rossetti o in questo caso questi rossetti liquidi e mi ci trovo molto molto bene è fantastica ed ha un prezzo molto molto basso e il prodotto è di qualità poi un prodotto che ho utilizzato tanto come come base è questo matitone di essence io adoro questi matitoni di essence ve li straconsiglio tutti si può dire tutti anche questo qui che mi vedete è un matitone essence ed è sono i matitoni della linea stays no matter what questo qui è lo 07 whip and white frosting ed eccolo lì color burro eccolo qui e io lo utilizzo come base è molto molto buono sembra bianco come l'illuminante ma non è così è un color burro si sfuma molto bene e lo utilizzo come base per gli ombretti chiari per dare un tocco luminoso al insomma per dare un tocco luminoso alla palpebra mobile anche perché per chi mi segue pure su facebook ha visto che in questo periodo sono sono andata in fissa con i trucchi nude ho delle labbra molto molto scure e ho utilizzato come base questo matitone e insomma mi piace tanto infatti è il più usato si può dire vedete più usato di tutti poi appunto che sono andata in fissa con i trucchi nude sono andata cioè ho utilizzato questi due palette allora insomma per il sabato per il weekend utilizzavo la naked 2 anche perché la sto scavando abbastanza in particolare Foxy questo qui e anche il marroncino comunque non costa pochissimo me la riservo insomma per le occasioni la naked 2 e ho sfruttato molto questa qui della Mua che insomma l'avevo acquistato proprio per alternarla alla naked 2 per non consumare insomma la naked 2 devo dire che è un'ottima palette infatti sto consumando ho consumato tantissimo anche questo qui che è il più chiaro che è il più pesato di di Foxy infatti si vede cioè che c'è proprio tipo una conca e insomma vabbè anche il marroncino vedete insomma ho utilizzato queste alternate queste queste due palette questa qui ha un costo di 5 euro ed è il più pesato della naked 2 eccetto per qualche colore non è come l'undressed che è uguale alla naked questa qui per esempio questo grigio questo colore qui non è non corrisponde neanche questo grigio corrispondono esattamente proprio alla naked 2 è un mezzo tono però se volete proprio un dupe esatto dovete prendere l'undressed questa qui è l'undress me too e è un diciamo dupe comunque perché la maggior parte degli ombretti sono uguali della naked 2 poi come ultimi prodotti ho utilizzato molto questo mascara di NYX che ho acquistato al primo Cosmoprof quindi due anni fa si può dire ed è il NYX provocator con due effetti cioè l'effetto più naturale e l'effetto un po' più strong l'ho utilizzato abbastanza perché devo dire che non si è seccato quindi davvero ottimo prodotto per tutto il tempo che ce l'ho voglio dire non è andato male assolutamente lo utilizzo mi fa un bel effetto devo fare più passate per avere un effetto provocator come dice come dice insomma la confezione per avere proprio delle belle cigliozze però è molto molto carino l'ho tirato fuori perché mi dispiace ce l'ho da un bel po' e voglio insomma terminarlo e un altro prodotto che ho ricacciato fuori e vabbè io lo promuovo a pieni voti perché questo prodotto ce l'ho da anni ce l'ho da 3-4 anni ed è sempre uguale ed è il fluid line di MAC il black track ovvero l'eyeliner nero che ormai si è per dirvi si è ossidato anche il disipo sotto e non si legge una mazza è l'eyeliner nero di MAC praticamente vedete ed è rimasto uguale davvero uguale non si è seccato nella maniera più assoluta non è un nero intenso è molto più intenso il nero di quello lì di Essence però basta che ci ripassate sopra un altro po' di prodotto e si intensificate bene il colore mi piace come prodotto perché è molto fluido e si stende perfettamente dà la possibilità proprio di creare una bella linea ho acquistato anche quello lì di Maybelline però ho sbagliato colore perché praticamente fidandomi della commessa di Acqua e Sapone praticamente mi aveva fatto capire che quello di Maybelline c'era soltanto o nella tonalità black black brown che è tipo quel nero marrone e poi c'è il black chrome che è il nero glitterato e io ho preso il nero glitterato non sapevo che c'era il nero normale che sicuramente andrò ad acquistare una volta che terminerò o questo qui di MAC o quello lì di Essence che sta tirando le cuoia è davvero secchissimo non so non so davvero come come riprenderlo e a niente ragazzi questi sono stati i preferiti di questo mese sono tutti i prodotti che ho tirato fuori dalla cassettiera per far riprendere un po' d'aria e per riutilizzarli perché comunque mi dispiace che stavano lì inutilizzati e ho fatto anche delle piacevoli riscoperte come in questo caso la palettina di Wet n Wild che mi è piaciuta tantissimo e il fondo della Delia Cosmetics che io adoro davvero fa dei fondi questa azienda fantastici ed è anche un'azienda diciamo minerale l'inci non è totalmente verde io non ne capisco un caspita però comunque vedo il dimeticone però vi assicuro che è molto molto buono come fondotinta infatti questo fondotinta qui lo compro sempre a una mia amica che ha la pelle grassa tende insomma ad avere qualche imperfezione sul viso ma con questo si trova divinamente quindi ogni anno che vado lì glielo compro perché so che gli piace tanto e ovviamente anche la cipria di Fisian Formula perché mi piace l'effetto che dà sul viso niente ragazzi vi mando un bacione mando un bacione a Federica sono contenta di collaborare con te Fede sei una forza della natura sei gallarda e mi raccomando continua così perché sei davvero brava non ti abbattere sono certa che il tuo canale crescerà sempre di più ti auguro davvero il meglio e spero che questo sarà l'inizio di una collaborazione mensile da fare insieme e niente un bacio a Fede un bacio a voi ciao ragazze di un bacio a Fede Grazie a tutti.